Io ho una formazione umanistica, ho studiato storia, storie economiche, quindi credo al valore della rimescolanza delle culture. Credo che sempre più andremo verso una formazione di un tipo con un'integrazione di competenze. E credo alle squadre miste tra uomini e donne, tra formazione tecnologica o economica e formazione umanistica. Però non dobbiamo essere portatori, come dire, di un'unica verità. Quindi chi ha una formazione umanistica deve aprirsi ai dati, ai numeri e a un pezzo di razionalizzazione del proprio pensiero. Viceversa, chi ce l'ha contrapposta deve credere nel valore dell'intelligenza emotiva, per esempio dello scambio delle relazioni. Che è un qualcosa che a noi manca ancora, perché dalla scuola e dall'università italiana tendiamo a uscire ben preparati, molto più preparati che nei paesi anglosassoni, ma meno allenati a lavorare in squadra. E questo è un tema su cui dovremo lavorare per costruire innovazione e futuro.